La residenza Sorriso dei Bimbi di Alassio, donata dalla famiglia Borre al comune di Bustarsizio nel 1953, riapre con una nuova gestione biennale. Riapre nonostante le difficoltà, nonostante i lavori che abbiamo fatto, il cambio spiaggia. Oggi riapre con una nuova veste, una spiaggia più centrale, più ampia. Una gestione che, pur essendo nuova, mantiene alcune caratteristiche, soprattutto riguardo i prezzi di quella passata. Quindi abbiamo una settimana in mezza pensione per le famiglie di Busto a 380 euro, con mezza pensione e servizio spiaggia compreso. Questo per facilitare anche chi fa fatica nei mesi più di punta a potersi permettere una settimana di vacanze e essere accolto nella nostra struttura. Ma non è tutto, perché oltre a ospitare, grazie all'impegno dell'Aubam, 35 bambini di Chernobyl per due settimane a luglio, 15 minori inviati dall'Ufficio Servizi Sociali potranno usufruire di soggiorni climatici senza alcun costo a carico dell'amministrazione comunale.